Siamo i alunni Alunni a scuola in estate, traballi e divertimento. Sono stati due anni difficili per gli studenti di tutta Italia. La pandemia e le misure per prevenire la diffusione di contagio hanno tolto alla scuola uno dei suoi meriti più importanti, quello di favorire la socialità e creare coesione tra i compagni di classe. La Dada è inevitabilmente separato gli studenti, specialmente i più piccoli, che maggiormente avevano bisogno delle amicizie che possono venirsi a creare solo fra i banchi di scuola. Per questo motivo alla Denkolas Asso, di Torre del Greco, in accordo con un PON previsto dal Ministero dell'Istruzione, i giovani alunni sono tornati in classe anche nelle prime due settimane di luglio, con i progetti Denkolas Summer Camp e Estate a scuola. In pochi giorni realizzare tutto questo è davvero una grande impresa e ci siamo riusciti altamente. Quindi voglio fare i complimenti soprattutto ai nostri alunni che sono stati bravissimi, hanno dimostrato anche loro delle competenze nel bar, nel nato, quindi di buon auspicio anche per il loro futuro, per la carriera futura, anche come attori e quant'altro, anche i ballerini. Voglio complimentarmi anche con i tutor perché hanno dimostrato anche loro delle competenze perché comunque hanno collaborato con gli esperti che hanno dimostrato delle elevate competenze, anzi delle competenze specifiche per i loro moduli assegnati. E naturalmente faccio dei ringraziamenti a tutto il mio staff di presidenza, al professore Peffio Romano perché ho organizzato alla grande di tutto questo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. I complimenti ai tuoi ragazzi, i complimenti ai tuoi, i complimenti ai vostri insegnanti, i complimenti a questa scuola che fa sempre emozionare tantissimo il sottoscritto. Ultimamente abbiamo avuto il sacchetto selvaggio e voi avete fatto delle cose eccezionali. Quindi questa ripresa per noi è fondamentale, io spero che a settembre ci rivediamo e ci dobbiamo rivedere in presenza. Ognuno di noi sta cercando di lavorare in modo migliore perché non possiamo stare in tanto, non potete praticamente, nello stesso tempo non dobbiamo rischiare niente. Dobbiamo, quando prima fa sì che questo tunnel, che ormai piano piano stiamo trovando le luci di questo tunnel, lo troviamo definitivamente in modo tale che i ragazzi vivono quello che devono vivere perché loro piacciono stare insieme, piacciono stare come stanno in questo momento. Quindi grazie per quello che avete fatto e complimenti a tutti quanti voi. Lo scopo di entrambi i moduli è stato proprio quello di favorire la socialità, organizzando spettacoli divertenti oppure creando vere e proprie competizioni sportive, le denicoliadi. Grande partecipazione da parte dei giovani alunni che non hanno perso l'occasione per recuperare due anni di amicizia, scherzi e risate persi a causa del Covid. Grazie per la visione!